Musica Gentili te spettatori benvenuti all'informazione su Onda TV e anche noi stiamo sul pezzo in quanto ormai è l'argomento del giorno coronavirus e la truffa del pacco medico sciacalli in azione anche a Sulmona. Andrea D'Aurelio Sciacalli del coronavirus in azione anche a Sulmona. I malviventi si fingono addetti dell'ASL e annunciano la consegna di un pacco contenente materiale medico sempre per telefono chiedono a malcapitato utente di verificare l'indirizzo corretto. A farne le spese è stata una donna residente in città che fortunatamente non si è fidata dei malviventi e immediatamente riagganciato per poi denunciare il caso sulla rete sociale di Facebook. Era una persona con accento napoletano. Io non mi sono fidata tant'è che quanto mi ha chiesto di indicare l'indirizzo ho subito riagganciato racconta la Sulmonese. Al momento si tratta di un caso isolato. Né i carabinieri né la polizia sono state denunciate truffe per il coronavirus e tentativi ma l'attenzione resta alta proprio sul fronte della prevenzione. Non a caso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile nella giornata di ieri aveva informato la popolazione con un tweet sul rischio truffe. Attenzione! Le associazioni di volontariato ci stanno segnalando tentativi di truffa da parte di finti volontari che telefonicamente o porta a porta propongono test domiciliari sul coronavirus. Il Dipartimento non ha dato disposizioni di questo tipo e invita tutti a prestare attenzione. Hanno allertato. La raccomandazione è quella di diffidare e di contattare i centralini del 112 o del 113. Nessun caso accertato di coronavirus in Abruzzo ad oggi. Sono risultate negative al Covid-19. Sei persone sottoposte a tampone nelle ultime ore in Abruzzo. Una di queste era un uomo di 34 anni arrivato all'Aquila per visitare la nonna. Per lui solo un'influenza stagionale. Gli altri tamponi sono stati eseguiti a Pescara e a Teramo. Tre i minorenni. Tutti provenivano da aree dell'Odigiano da cui erano partiti prima del blocco degli spostamenti in vigore da sabato e avevano avuto contatti significativi con soggetti risultati positivi al contagio. Gli esami vanno eseguiti presso l'ospedale civile di Pescara, centro di riferimento regionale per le analisi legate al coronavirus. Cocaina divisa in dosi. Torna in libertà l'albanese messa alla prova per il giovane romeno. Sentiamo. Torna in libertà il 49enne albanese residente a Sulmona. I.I. Le sue iniziali arrestato sabato scorso dalla squadra anticrimine del locale commissariato guidato dal vicequestore aggiunto Francesca Lachioma per detenzione a fini dispaccio di sostanze stupefacenti. Al termine dell'udienza di convalida, celebrata questa mattina al Palazzo di Giustizia, il giudice per le indagini preliminari Giuseppe Ferruccio ha convalidato l'arresto in flagranza di reato e seguirò dalla Polizia e alleggerito la misura cautelare per l'indagato, disponendo l'obbligo di firma, ovvero la presentazione giornaliera presso il commissariato di via Sallustio, che di fatto equivale a una remissione libertà. Il 49enne era stato fermato la sera di sabato scorso dagli uomini dell'anticrimine al posto di blocco. La Polizia ha proceduto alla perquisizione personale e domiciliare, rimanendo 5 grammi di cocaina suddivisi in 12 dosi, pronte per lo spaccio presso il mercato locale, 6 grammi di sostanza da taglio, tra cui materiale per il confezionamento, e mezzo grammo di hashish. E' scattato quindi l'arresto in flagranza di reato, convalidato in mattinata. Il giudice, accogliendo l'istanza dell'avvocato Leforo di Sulmona, Giovanni Mastro Giovanni, ha derubricato il reato riconoscendo la lieve entità del testo unico degli stupefacenti, l'ex articolo 73,5. Per questo ha revocato gli arresti domiciliari e ha disposto l'obbligo di firma. Sempre questa mattina il GIP Ferruccio ha firmato l'ordinanza di sospensione del processo per la messa alla prova per EC, 25enne romeno, residente a Pettorano sul Gizio, fermato la scorsa settimana dalla Guardia di Finanza, con 9 dosi di cocaina in auto pronti allo spaccio, corrispondenti a 4 grammi, denaro contante, bilancino di precisione, materiale per confezionamento e taglio della sostanza. Per i 25enne difeso dall'avvocato Alessandro Margiotta è stato disposto all'obbligo di dimora e ora, tramite la messa alla prova, avrà la possibilità di estinguere il reato in caso di esito positivo. L'udienza per la valutazione è stata fissata per il prossimo 26 maggio. Ed ora il caso della badante senza permesso di soggiorno. L'ex convivente viene assolto. Inito sotto processo per aver occupato le proprie dipendenze come badante in qualità di attore di lavoro, una cittadina ucraina sprovvista del permesso di soggiorno, del testo unico dell'immigrazione. Ma in realtà la donna non era altro che la sua convivente, con la quale aveva cercato di staurare una relazione. Finisce un altro incubo giudiziario per Carlo Carrozza, 68enne del posto, assolto oggi da Tribunale di Sulmona dal reato contestato lì perché il fatto non sussiste, fermo restando la formula dubitativa della mancanza di prove. I fatti risalgono alla sera del 12 aprile 2014, quando Carrozza torna nella sua abitazione e trova la giovane ucraina ubriaca, in stato euforico e alterato. Le ha chiesto a quel punto che cosa avesse fatto, ma lei lo avrebbe aggredito verbalmente, tanto da costringerlo a richiedere l'intervento di una volante della polizia. Gli agenti si recano a casa dell'uomo per constatare di persona la situazione. La giovane viene poi ascoltata negli uffici del commissariato di via Sallustio. Davanti alla polizia la donna dichiara di non essere stata pagata per il suo lavoro di badante. Il 68enne viene accusato di aver violato il testo unico dell'immigrazione, visto che la donna non era nemmeno in regola con il permesso di soggiorno. Il castello accusatorio è completamente caduto nel corso del processo. L'imputato, difeso dall'avvocato nel foro di Sulmona, Alberto Paolini, ha dichiarato davanti al giudice che la giovane ucraina non era una sua dipendente, ma solo una compagna che aveva conosciuto tramite un'altra persona. Viveva in casa con lui e la figlia per compagnia fino a quando quella sera è scoppiato il parapiglia. Il 68enne ha riferito di non essere a conoscenza dello stato di illegalità dell'Ucraina e che la stessa non si è mai occupata dalle faccende domestiche. È stata quindi pronunciata la sentenza di assoluzione, richiesta anche dal PM, per insufficienza delle risultanze probatorie, ovvero perché il fatto non sussiste. Una richiesta di aiuto al 112, l'attivazione di tutti i servizi esterni, la corsa verso la zona indicata, il rintraccio dell'autovettura ancora in moto, una vita salvata. Sono questi i momenti più importanti dell'intervento effettuato domenica pomeriggio dai militari della sezione radiomobile della Compagnia Carabinieri dell'Aquila. In una tranquilla domenica pomeriggio una donna contatta il 112 e chiede aiuto poiché aveva il sospetto che il marito potesse trovarsi in pericolo. Infatti poco prima l'uomo aveva effettuato una strana telefonata alla donna. Il rapporto coniugale in crisi, le strane parole del marito e il luogo dal quale chiamava hanno suscitato nella donna il dubbio che l'uomo potesse compiere una sciocchezza. Da qui la telefonata al 112 e l'attivazione delle ricerche. Acquisita la richiesta, l'operatore della centrale operativa ha attivato tutte le pattuglie disponibili nella zona. La pattuglia della radiomobile è stata la prima a raggiungere l'area segnalata a San Pietro della Ienca. Percorsa la strada provinciale 86 di Vasto in direzione Campo Tosto, Teramo, i militari hanno così notato un'autovettura parcheggiata in zona boschiva con dei tubi che collegavano la marmitta all'abitacolo. I carabinieri sono intervenuti immediatamente ed hanno estratto l'uomo ormai privo di sensi a causa del monossido di carbonio che aveva completamente saturato l'abitacolo. I due soccorritori hanno iniziato a praticargli i primi soccorsi richiedendo l'immediato intervento di un'ambulanza. Il tempestivo intervento dei carabinieri indirizzati sul posto dall'operatore della centrale operativa ha evitato che l'uomo potesse portare a compimento l'insano gesto. Il personale del 118 intervenuto sul posto ha provveduto a ristabilizzare e a trasportare l'uomo presso il locale pronto soccorso. Alla fine delle cure del caso il malcapitato è stato ricoverato presso l'ospedale San Salvatore dell'Aquila dove tuttora è ricoverato. Sacchi di rifiuti gettati nel fiume. Cresce la discarica a cielo aperto. Andrea D'Aurelio. Il 17 febbraio 2019, ormai un anno fa, Onda Tg parlava di degrado ad oltranza come dimostra il servizio televisivo caricato sulla piattaforma di Youtube. Altro giro e altra corsa. La situazione è peggiorata. La discarica a cielo aperto si sta allargando sulle sponde del fiume Vella dove l'inciviltà regna sovrana nella più totale indifferenza. Lanciare rifiuti nel fiume è diventata una pessima e cronica abitudine che non rende giustizia all'immagine di una città che svetta nella classifica della raccolta differenziata. Una scena che fa capponare la pelle, che ha fatto scattare a più riprese le proteste dei residenti di Via Fiume, Via Piave e Via Circonvallazione Orientale. Perché ammirare il macabro spettacolo tutte le mattine non è il massimo. L'esposto è l'autorità competenti anche in campo sanitario e quasi dietro l'angolo. L'appello al buonsenso e per chi non ha rispetto della città e dell'ambiente il divieto di abbandono di rifiuti è contenuto nel testo unico sull'ambiente decreto legislativo del 3 aprile 2006 numero 152 all'articolo 192 che si applica a ogni genere di rifiuto liquido o solido abbandonato sul ciglio della strada o nel sottosuolo. Allo stesso modo il divieto di abbandono di rifiuti si estende anche sulle acque superficiali come mari, laghi e fiumi e in quelle sotterranee ovvero le falde acquifere. Le sanzioni per i privati cittadini che abbandonano o depositano rifiuti strada ovunque non sia espressamente consentito vanno da un minimo di 300 euro massimo di 3.000 euro in relazione alla quantità e alla pericolosità dei rifiuti. Le cose cambiano se i rifiuti vengono abbandonati durante lo svolgimento di un'attività professionale oppure con una condotta pianificata e organizzata. In questi casi infatti si parla di vera e propria responsabilità penale. Ex articolo 256 del testo unico dell'ambiente. Il reparto di oncologia tra affanno e confusione torna in reparto la dottoressa migrata all'Aquila. Sentiamo. Affanno e confusione. Basterebbero solo due parole per riassumere la situazione in atto nel reparto di oncologia dell'ospedale di Sulmona, balzato alle cronache per carenza di organico. Da circa una settimana, quasi in concomitanza con la notizia abbattuta da Onda Tg, la dottoressa assegnata al locale presidio ospedaliero ma in servizio all'Aquila è tornata all'ospedale dell'Annunziata, dopo che l'unica unità rimasta in servizio è andata in ferie. Una soluzione tampone che si è resa possibile solo dopo un ordine di servizio diramato dall'azienda sanitaria. Il medico che finora ha prestato servizio a San Salvatore, grazie a un accordo interno con la dottoressa assegnata all'Aquila ma in servizio in città, resterà in reparto fino al prossimo 28 febbraio. Per questa settimana prestazioni e attività sono garantite con regolarità, ma il problema potrebbe porsi dal primo marzo. Tutto può succedere. La ASL nelle scorse settimane ha deliberato la proroga in favore della dottoressa assegnata sul Mona fino al mese di agosto, ma la stessa, fatta eccezione di questa settimana, ha sempre svolto servizio nel Nosocomio Aquilano, previo accordo interno preso con l'altra dottoressa in servizio in città, con contratto in scadenza a fine mese, attualmente in ferie. Che confusione verrebbe da dire. Alzi la mano chi non si perde nei meandri della burocrazia sanitaria, dinanzi a un quadro tutt'altro che chiaro e lineare. I malati oncologici da tempo chiedono certezze e stabilità, soprattutto riferimento ai piani terapeutici da somministrare, che richiedono figure permanenti in reparto. La ASL 1 aveva stabilizzato il contratto alla dottoressa fuori servizio per maternità, almeno fino a maggio. Si spera quindi che lunedì prossimo ci sia un medico per aprire la porta di oncologia. Il Tribunale per i diritti del malato, con la coordinatrice Katia Puglielli, è stato chiaro. Se si dovesse configurare l'interruzione di pubblico servizio, si adotteranno tutte le tutele legali. E a proposito di Katia Puglielli, degente per due giorni. La sanità vista da un'altra prospettiva? La sanità vista da un'altra prospettiva e con occhi diversi. A raccontare più da vicino il nuovo ospedale di Sulmona e il reparto di chirurgia, è la coordinatrice del Tribunale per i diritti del malato, Katia Puglielli, degente per due giorni nel nosocomio. Dopo essersi sottoposta a un intervento chirurgico, la Puglielli è tornata a casa e ha messo tutto a nero su bianco, inoltrando una missiva alla ASL Avezzano Sumona L'Aquila, per ringraziare lo staff del reparto. A volte bisogna essere paziente per capire anche i disagi di una struttura che ogni giorno deve far fronte alle necessità di tipo organizzativo e strutturale che richiedono una maggiore attenzione da parte della dirigenza. Da degente, ad esempio, ho potuto constatare come molti pazienti hanno dovuto effettuare durante la loro degenza un viaggio all'Aquila per la risonanza magnetica. Oltre al disagio per il malato, come lei potrà intuire, organizzare viaggi di pazienti all'Aquila comporta perdite sia in ambito economico che di risorse umane, in quanto bisogna sottrarre le ambulanze al territorio, ha scritto la Puglielli nella lettera indirizzata al direttore generale dell'azienda, chiedendo pure una programmazione nella rinnovazione degli incarichi al fine di garantire continuità, stabilità ed efficienza. La coordinatrice del Tribunale per i diritti del malato ha ringraziato il reparto di chirurgia per la professionalità mostrata, in particolare il dottor Aldorusso, un medico attento alle esigenze del paziente che riesce a coordinare in un perfetto connubio l'efficienza, la preparazione, la serietà, l'umanità. Un professionista completo che oltre a offrire un servizio medico particolarmente efficiente e preciso ha la capacità di far sentire il paziente a casa fin dal momento della presa in carico, rassicurandolo nei suoi momenti di paura con la spiccata innata umanità. Per la Puglielli si è trattato di un'esperienza diversa, che sicuramente aiuta a guardare la sanità da un'altra prospettiva per continuare ad assistere gli utenti più deboli e bisognosi, con l'entusiasmo di sempre e con la benegazione finora dimostrata. E a Sulmona finalmente arriva la progettazione per la nuova scuola. Andrea D'Aurelio. Passo in avanti per la realizzazione del nuovo plesso scolastico a Sulmona. Con determina dirigenziale numero 88 dello scorso 19 febbraio, firmata la dirigente Medeo D'Aurelio e da RUP Barbara D'Aprile, pubblicata sull'albo pretorio del sito web del Comune, è stato aggiudicato l'appalto del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza per la costruzione della nuova scuola in favore della ditta Ars Meccanica SRL per un importo complessivo di 103.317,93 euro. Si tratta di una struttura che sarà destinata a scuola primaria e dell'infanzia, tecnologicamente all'avanguardia, soprattutto con standard di sicurezza elevati, per un importo complessivo pari a 4.882.934,54 euro nell'ambito del piano scuole d'Abruzzo e il futuro in sicurezza. La proposta avanzata dalla giunta Federico, poi rilanciata dalla successiva giunta Ranalli, aveva subito uno stop con l'attuale amministrazione comunale. Poi, dopo l'ingresso in giunta di Nicola Angelucci, il progetto ha ripreso forza. L'intenzione è quella di costruire un nuovo complesso scolastico dedicato alle materne e alle elementari cittadine nella zona nuova della città, in modo da non complicare la vita alle famiglie. Il progetto preliminare aveva avuto l'ok il 22 marzo 2014, dopo che il Consiglio Comunale dell'Era Ranalli aveva approvato la proposta non senza polemiche. L'iter è poi andato avanti a rilento, tant'è che ci sono voluti più di 5 anni per passare a progetto esecutivo. Dopo la giudicazione dell'appalto, si apre ora la fase della redazione del progetto. L'iter burocratico non è ancora in dirittura d'arrivo. Nel prossimo futuro Sulmona avrà tre nuovi edifici. Oltre a quello di Via 25 Aprile, sarà battuta e ricostruita la serie della scuola primaria Lombardo Radice e sarà pure realizzata la nuova scuola Bagnaturo, per la quale sono stati già previsti 470 mila euro. E anche Sulmona si prepara a vivere il Carnevale. Sarà festa nel centro storico dedicata soprattutto ai bambini. L'appuntamento è fissato alle 15.15 a Piazza Tresca, da dove partiranno i gruppi in maschera che sfileranno lungo corso o video accompagnati dai musicisti di street band. Atmosfere circensi saranno ricreati in piazza a 20 settembre, dove saranno allestiti i gonfiabili con affascinante magia di giocolieri e la travolgente allegria di clown, trampolieri, equilibristi, scultori di palloncini e truccabimbi, Zucchero Filato, un evento promosso dall'amministrazione comunale per regalare ai bambini un momento spensierato di festa tra coriandoli, musica e l'allegria delle maschere del Carnevale. I grandi assenti restano i carri che non sfileranno in centro storico se a Carnevale ogni scherzo vale, questo è quello riservato a Sulmona. E a Vittorito apre il centro estetico Butterfly e sfida la crisi. Domenico Venigeri In tempi di incertezza economica sono i giovani che scommettono sul futuro. Un esempio tangibile è quello che si è avuto a Vittorito con l'apertura di un centro estetico e la scommessa di Elda Melchiorre che, armata di passione e coraggio, a 35 anni ha deciso di mettersi in gioco. Ho lavorato tanti anni come estetista e poi ho deciso di mettermi in proprio e di fare qualcosa di mio perché amo il mio lavoro e quindi voglio incentrarlo anche a Vittorito che è una piccola realtà dove manca un centro estetico e quindi valorizziamo il paese anche se è un periodo un po' difficile per aprire un'attività però i sogni sono fatti per essere realizzati quindi vada come vada, io ci spero. Il Butterfly centro estetico è stato inaugurato in via Ricasso alla presenza del sindaco Carmine Presutti che ha sottolineato l'importanza dell'evento perché con l'impegno e la determinazione si ottengono risultati. Come dire, non è vero che è sempre tutto difficile. È veramente una cosa bellissima perché quando è il momento che uno pensa che siamo in un momento un po' di crisi poi ci sono delle soddisfazioni. Il sindaco Presutti ha inoltre rimarcato che l'apertura del centro estetico mette in evidenza l'espansione delle attività da parte dei giovani. Ultimamente qui nel nostro paese sono state aperte altre tre attività di tre cantine nuove con tre ragazzi. Poi è stato inaugurato un allevamento importante di lumache sempre da giovani del paese. Abbiamo l'allevamento del maiale nero peligno, il più grande d'Abruzzo fatto anche da giovani e quindi ci sono queste attività che crescono continuamente. Bellezza, benessere e professionalità sono alla base del Butterfly centro estetico che si pone al servizio della piccola comunità di Vittorito e non solo. Soddisfazione è stata espressa da Elda Melchiorre perché le tante presenze all'inaugurazione sono la dimostrazione del gradimento da parte dei cittadini nei riguardi di un'offerta commerciale tessa allo sviluppo del paese. Tanta gente che forse non aspettavo, amici, parenti ma anche persone che con me non hanno tanto a che fare però comunque sono venute a portarmi onore, insomma la cosa mi fa veramente tanto piacere, tanto tanto. Un sogno che diventa realtà per Elda Melchiorre, la sua famiglia e tutte le persone che ha avuto vicino affinché questa scommessa potesse essere vinta. Un sogno che diventa realtà tanti sacrifici ma la gioia di oggi è indescrivibile, è davvero indescrivibile. Ed apriamo la pagina sportiva, buona affermazione di Giulio Perpetuo ai campionati europei 2020 di CrossFit che si sono svolti nello scorso fine settimana in Inghilterra. L'atleta sulmonese è il risultato primo in assoluto degli italiani alla competizione e settimo nella classifica generale. Si tratta di un risultato sudato e meritato in due giorni di gare dopo anni di intensa preparazione. Perpetuo sotto l'occhio attento del suo allenatore Stefano Quarta ha saputo tenere testa ad avversari quotati portando in alto l'Italia e naturalmente l'Abruzzo. In un solo anno di esperienza nel CrossFit, disciplina del fitness incentrata sul sollevamento pesi e ginnastica insieme ad altri esercizi è riuscito a rientrare tra i migliori in Europa facendo ben sperare per il futuro. Volley Pratola 78 continua la striscia positiva battuta per 3-0 l'Edas Torrevecchia. Domenico Velingeri. La Gran Sasso Telecomunicazioni Volley Pratola 78 conquista la quinta vittoria consecutiva nel campionato interregionale di Serie C. Le ragazze di Cocce Emilio Di Bacco sono riuscite a prevalere per 3-0 nella trasferta contro l'Edas Torrevecchia Volley. I parziali di 25-21, 25-23 e 25-21 dimostrano che è stata una partita molto combattuta, conclusasi positivamente da parte delle Pratolane che riscattano la sconfitta dell'andata. Questa volta è stata giocata una buona palla a volo con tanta concentrazione e senza regalare il terzo set alle avversarie, come era accaduto negli ultimi confronti. La vittoria permette alla squadra del presidente Vincenzo Santacroce di consolidare la seconda posizione, mantenendo inalterate le distanze di 5 punti dalla terza Gagliotti di Cambi Giulianova e di 7 dalla quarta Cus L'Aquila che occupa l'ultimo posto utile per accedere ai play-off promozione. Nel prossimo fine settimana non ci saranno impegni, in quanto il confronto che era in programma sabato 29 febbraio in casa contro il Volley Penne non si giocherà perché la federazione di pallavolo, a causa dell'allarme coronavirus, ha sospeso a scopo precauzionale tutte le attività agonistiche fino al primo marzo, rinviando le partite a data da destinarsi. E da causa del coronavirus è stato rinviato a data da destinarsi anche il corso per arbitro di rugby che era in programma sabato e domenica prossimi a Sulmona. La federazione ha infatti sospeso tutte le attività a livello nazionale, regionale e giovanile del prossimo fine settimana. La federazione, si legge in una nota, continuerà a lavorare al fianco delle autorità nazionali e locali e coopererà per garantire l'applicazione delle corrette misure al fine di garantire il contenimento dell'emergenza epidemiologica a tutela della salute pubblica dei tesserati e delle loro famiglie. Il preparatore dei portieri sul Monese, Alan Ballatore, trionfa con la vita ervese per la vittoria del Girone C del campionato nazionale Dante Berretti. Competizione calcistica giovanile organizzata dalla Lega Pro. L'affermazione è arrivata a due gare dal termine grazie a successo per 1-0 contro la seconda in classifica ternana che ha permesso di portare il vantaggio a più 8. I prossimi appuntamenti saranno ora le fasi finali dal 21 marzo per la conquista del titolo di campione d'Italia. Per il 28enne allenatore di Sulmona si tratta della seconda vittoria di un campionato nazionale dopo quello nella stagione 2017-2018 con l'Under 17 sempre con il club professionistico della Viterbese. Ed ora il film in programmazione ad Iggoland. Gli anni più belli alle 18.20 alle 21.10, Il richiamo della foresta alle 18.10 alle 21.10, La mia banda suona il pop alle 21.10, Sonic alle 18.00, mentre il cinema pacifico è chiuso per riposo settimanale. Ora le previsioni del tempo, prossimo appuntamento con l'informazione questa sera alle ore 20 con il studio Andrea D'Aurelio e io vi auguro buon pomeriggio a tutti quanti e a domani. Sulla nostra regione condizioni di cielo poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso, per la presenza di nubi alte e stratificate che non produrranno fenomeni di rilievo, mentre annuvolamenti più consistenti interesseranno soprattutto la marsica in estensione verso l'Aquilano entro la serata. Da stasera inoltre è previsto un graduale rinforzo dei venti di libeccio con probabile garbino sul versante adriatico e raffiche localmente superiori ai 60-80 km orari, specie sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico. Temperature in temporaneo aumento a partire dal pomeriggio e nel corso delle ore serali, specie sul settore adriatico. venti deboli orientali lungo la fascia costiera, occidentali sulle zone interne montuose. Mare quasi calmo poco mosso, con motondoso in graduale aumento dal pomeriggio e nel corso delle ore serali. Mare quasi calmo più piccoli.